C'è un fuoco in ognuno di noi, io non lo combatto, ci convivo. Credo che se hai paura di lasciar bruciare il tuo fuoco interiore, lui ti consumerà. Non lasciare che accada. Accetta la tua forza e abbraccia le tue debolezze. Trova un equilibrio costante. Ti renderà sicuro abbastanza da lottare per ciò in cui credi. Perché nessun altro lo farà al tuo posto. E l'unico avversario che conta è dentro di te. E se hai fatto pace con te stesso, prima di sentire le campane suonare, il profumo della gloria rafforzerà ogni tua mossa. Senare stabilo.